ma che mischia, ma che mischia ma levati quei occhiali lui c'ha gli occhi appannati ora, se lo dico io quanti gradi ti mancano arbitro? dai Lory, dai Lory vai, 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 giù, giù, giù dai ragazzi, dai ok, allora nonno, 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 nonno oddio e allora, lì chi è che è il cambio? lì buon vieni Grazie a tutti.